Ciao a tutti amici di GeatsChina e benvenuti nel nostro test and to do benchmark dell'Egu M5. Stiamo parlando di un terminale di fascia low cost che spicca per la sua qualità costruttiva, ma tralasciamo questo aspetto che analizzeremo poi nella recensione completa e concentriamoci sul comparto hardware, perché come già detto precedentemente, essendo un terminale di fascia low cost, presenta delle caratteristiche piuttosto comuni per questa fascia di prezzo. Infatti a bordo troviamo un processore quad core Mediatek MT6580 con frequenza di clock massima di 1.3 GHz. Ad affiancarlo troviamo poi 2 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria interna ed una GPU Mali 400 MP1. Ma andiamo a vedere quale sarà il risultato del nostro test and to do benchmark di questo nuovo Legu M5. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti